se mi avessero detto qualche anno fa che avrei inserito nella mia beauty routine dell'uva spina indiana beh io non ci avrei mai creduto e invece eccomi qui a parlarvi degli straordinari benefici di questo piccolo frutto che qui da noi troviamo spesso sotto forma di polvere l'hamla voglio mostrarvi come realizzo con l'hamla una pozione semplicissima ma non per questo meno magica che utilizzo sia per il viso che per i capelli vi consiglio se non avete mai provato l'hamla di fare una prova di sensibilizzazione cutanea per controllare che non siate allergiche servono oltre un po di fiori che mettono sempre di buon umore una ciotolina in ceramica un cucchiaio di legno acqua calda ma non bollente polvere di hamla io non utilizzo né ciotole nei cucchiai di metallo perché ho letto che non vanno bene e aggiungiamo l'acqua calda piano piano fino a raggiungere una consistenza cremosa attenzione a non fare un composto troppo liquido che poi gola dappertutto io per non fare pasticci tendo a fare un composto abbastanza denso per la quantità di hamla da usare questa varia a seconda che facciate un impacco per il viso una maschera per i capelli o anche in base alla lunghezza dei vostri capelli stessi voi se volete potete sbizzarrirvi e lasciare scatenare la vostra fantasia potete aggiungere a questo composto i più svariati ingredienti in internet ci sono tante ricette bellissime da sperimentare a seconda delle vostre esigenze c'è chi aggiunge yogurt olio di germe di grano gel d'aloe burro di karité olio d'oliva limone e tanti altri ingredienti io ho scelto aggiungendo solo acqua di utilizzare la ricetta più semplice ma non per questo meno efficace copro la ciotola e lascio riposare il composto una mezz'ora o un'ora passato questo tempo il composto è pronto ha un odore fangoso un odore che ricorda la terra bagnata dopo un abbondante pioggia un odore che ho imparato ad amare col tempo dopo l'applicazione i capelli saranno rinforzati e vi sembrerà che aumentino di volume e quantità saranno luminosi districati morbidi e l'eventuale effetto crespo sarà domato anche le fastidiose doppie punte tenderanno a ridursi e niente più perdita di capelli so che può essere molto utile anche per chi ha problemi di forfora e per regolare la produzione di sebo due avvertimenti l'amla tende a seccare i capelli e a scurire quelli chiari e posso testimoniare che entrambe queste affermazioni sono vere la pelle del vostro viso si illuminerà di una luce bellissima sarà più distesa e levigata le imperfezioni attenuate e la differenza tra il prima e il dopo sarà davvero visibile vi lascio in descrizione la procedura che uso passo per passo per l'applicazione sia della maschera sia dell'impacco una polvere che viene da terre lontane e che porta con sé tutta la saggezza tutta la bellezza e la magia racchiusa in quelle terre grazie a tutti grazie a tutti